Entrano nel vivo i lavori di realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche al Lido di Fano e in particolare in piazzale Amendola e nel sottopasso di Viale Carducci. A partire da oggi infatti l'impresa incaricata ha l'autorizzazione per aprire il cantiere che prevede nel piazzale l'area di stoccaggio materiali, mentre lungo i controviali gli scavi necessari per realizzare il nuovo impianto fognario delle acque bianche. Secondo il cronoprogramma l'intervento potrebbe durare 45 giorni e come è già stato annunciato il transito pedonale e ciclabile sarà interdetto, mentre verrà comunque garantito l'accesso alle abitazioni e alle attività produttive. Buongiorno, siete soddisfatti di questi lavori o siete preoccupati? No, siamo molto contenti, ci avevano detto che iniziavano, va bene così. Anche perché ci sono stati degli allagamenti negli anni passati anche qua? Sono anni che gli allagamenti ci sono e hanno creato sempre tanti problemi, poi se riescono a risolvere anche questo problema qua, ben venga. Io so che c'è paura, paura che chiudano la circolazione, se chiudono la circolazione andiamo in ferie noi. L'accesso comunque rimarrà garantito alle attività, quindi? Se l'accesso è garantito magari facessero in fretta, perché è ora dai, e da quando sono arrivato che c'è il problema dell'acqua. Da quanto tempo è? Da 2003. C'è sempre stato ormai un po' di anni? Sempre stato, ogni anno peggio, quindi benvengano i lavori a patto che non chiudano però. Anche lei ha un'attività a Lido da tantissimi anni? Da 37 anni, quindi sono contento dall'inizio che ci faceva questo punto e invece mai quello dell'acqua. Adesso finalmente sembra che ci fa. Anche perché l'allagamento ad esempio del sottopasso si verifica ogni qualvolta piove in modo copioso? Sì, quando pioveva già dopo un mezz'ora o un'ora già si allagava tutto il punto, quindi... Un problema anche per i clienti stessi? Non c'era un'anima in giro, e no, non poteva passare poriti. Quindi siete contenti dei lavori? Sì, noi siamo contenti, non so, che se si riesce, che se dopo c'è anche il trago che si riesce, quindi è meglio. No, non siamo contenti, dai.